Il 25 aprile 2020, a 76 anni dalla liberazione del nazifascismo, ci troviamo qui a celebrare attraverso un videofonino quello che è stato per i nostri nonni, i nostri genitori, una festa di piazza, una festa di strada. Dopo aver combattuto casa dopo casa, sentiero dopo sentiero, un nemico che con la forza disumana voleva annientare le idee, le intelligenze, le civiltà passate, istituire un nuovo mondo fatto di usurpazione, terrore, solitudine, mutismo. In questi 76 anni invece il mondo, almeno quello cosiddetto occidentale, ha potuto coltivare democrazia, libertà, solidarietà, favorendo lo sviluppo economico, sociale, assicurando la salute, l'istruzione, la cultura e le arti, le tecnologie e le scienze. Se oggi noi possiamo salutarci, vederci, sentirci ancora, anche se solo in questo modo, e grazie a milioni e milioni di persone buone. Buon 25 aprile.